salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di bazio oggi mi vedrete pescare al porto in questo momento è pomeriggio e la pescata la farò al tramonto l'esca di oggi sarà il granchietto e il bigattino piccoli granchietti che andrò ad innescare cercando di insidiare il sarago perché oggi voglio prendere qualche bel sarago nei giorni precedenti ho visto qualche sarago pizzuto grande intorno ai 500 600 grammi so che non mangiano col bigattino quindi devo cercare di insidiarli con qualche altra esc vado alla ricerca dei granchietti e noi ci vediamo fra pochissimo eccolo ragazzi sono proprio questi quelli che sto cercando questa taglia qua piccoli perfetti eccoci ragazzi ho appena iniziato a pescare questa è la prima passata corrente leggerissima ho innescato il granchietto sto pasturando a bigattino vediamo un po cosa succede l'orario è quello del tramonto speriamo di prendere qualcosa ecco la prima mangiata ragazzi l'ho chiamata l'ho chiamata ragazzi almeno che non sia il granchietto ma no 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 è un pesce un pesce è un pesce è un pesce è sceso ora vediamo sta risalendo pezzo di m***a pezzo di m***a questo è l'innesco che sto facendo con una model 12 ha mangiato prima e l'ha mollato anzi no non c'ho qua ha mangiato prima e l'ha mollato ed era un pesce non era perché non c'era il granchio ragazzi ragazzi ho agganciato il primo pesce col granchio forse un saraghetto forse un saraghetto o un orattino ma comunque un pesce piccolo pesce piccolo nooo si un saraghetto un saraghetto eh un pescetto però un granchietto lo rilasciamo mangiano con voglia mangiano con voglia si magari se aumento la taglia del granchietto potrebbe aumentare anche la taglia del pesce ragazzi agganciato col granchio non è niente di che però però è col granchio forse è una ratina no magari un saraghetto eh mi cazzo eh ma gliel'ho lanciato gliel'ho lasciato ha fatto tutto da solo no è una ratina piccola eh dai non te l'ho aspettato no sinceramente no si è girata ma l'ho presa con la model 16 con il 12 non mangiavo ragazzi il granchietto ha funzionato una piccola oratella che ora rilascio che piccola hai visto il granchietto? ma adesso si guarda il granchietto no ti dai l'ingolpio? eh pago mi ha portato via la canna via ridiamola via bisogna tra qualche chilo va va evo va 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 a Grazie a tutti. 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 Sembrerebbe. Sembra quasi uno latino. Grazie a tutti. Niente di che... No, non è un saraco bellino. Sì, è un bel saraghetto. E' un bel soggetto. Un bel soggetto, ragazzi. Ragazzi, questo video si conclude qui. Io purtroppo non ho preso nient'altro. Invece Simone è riuscito a prendere una bella spigola. Io come sempre vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.